Impara l'italiano con Omno! Vorresti mangiare un uovo, un delizioso uovo? Sì, sì, vorrei mangiare un uovo con il pane e il formaggio! Pepe, burro e un pizzico di sale! Vorresti una fetta di pizza, una deliziosa pizza? Sì, sì, vorrei una fetta di pizza con le olive e il formaggio! Origano, basilico, oh che bontà! Vorresti una fetta di torta, una deliziosa torta? Sì, sì, mettiamo in forno la torta con la glassa! E la crema! Cioccolato, una ciliegia, oh che sogno!